Un saluto agli amici del College Basket dal Levis Center di Santa Clara, finale della West Coast Conference, March Madness. Si inizia a respirare profumo di torneo, l'anticamera del torneo, sono le finali di Conference, Alessandro Mamoli ai microfoni di Sky Sport, primo gran galà del College Basket. E quando si parla di gran galà, quando si parla di College Basket, il posto a centro tavola aspetta a Federico Buffa. Sì, va bene, diciamo pure così se vogliamo, anche se potremmo saltarla questa parte. Comunque tutti sotto il Teflon di Santa Clara per assistere a un classico della nostra tardo inverno, inizio primavera. Si va a vedere la finale della West Coast Conference, perché a parte la Pac-10, ad ovest una palacressa di questo livello non la gioca nessuno. Ed eccoci alla classica situazione, Gonzaga che vinca o che perda, al torneo del SIAE ci va. St. Mary's se non vince aspetta domenica. Rischio di non andarci, non è il giorno della marmotta, anche se è la finale dello scorso anno, però ci sono sempre St. Mary's e c'è sempre, quella non manca mai, Gonzaga. Gonzaga è certamente dentro perché ha vinto contro le Oklahoma State, le Washington di questa stagione di College Basket e quindi gioca per vincersi l'ennesimo titolo di Conference. Gli altri giocano per il loro futuro, gara vera e con tanti giocatori estremamente interessanti, anche Maglia Blu. Gli altri giocatori estremamente interessanti a cominciare da Derek Ravio, che chiama il primo gioco d'attacco per i Bulldogs. Tanto Ronnie Turiaff, eccolo che riceve, va a prendere un fallo. Ronnie Turiaff sarà uno dei giocatori che seguiremo con più interesse e al suo quarto anno lo conosciamo tanto, lo conosciamo davvero bene, però il suo futuro NBA, Eurolega è uno degli argomenti di oggi. E' uno degli argomenti di oggi, il vero nome di Alessandro Mamoli nel gergo qui a Sky è il Bulletto e naturalmente il Bulletto ha subito dato la predizione su Turiaff. Europa, 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 vecchio continente. Qua qualcuno aveva delle opinioni diverse, ieri è arrivato uno scout in report che arriva da una famosa squadra NBA e c'è scritto Europa, 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 Bulletto 1. Rest of the World 0. Ecco, la storia del Bulletto. Spari con la presentazione, due per Turiaff. Mi volevi ridare quello che ti ho dato nella presentazione, mai nessuno ti aveva presentato così comunque. Sam Maris cerca assoluto di rispondere, una caratteristica dell'attacco di Sam Maris, spaziature molto larghe perché a Sam Maris ci sono degli ottimi tiratori su tutti. Daniel Kicker che va a prendere la sua prima tripla della gara, Adam Morrison al rimbalzo. Riparte dall'altra parte la transizione dei Bulldogs, spinta ancora una volta da Derek Ravio in post-alto. Ronnie Turiaff rimette la palla per terra, scarica fuori. Questa volta c'è un fallo in attacco per il francesone che non ha controllato il corpo. Un minimo di tensione ovviamente, è comunque una finale di conference. Se siete appassionati di college basket, Morrison lo conoscete già, giocatore molto molto particolare. Ha lo stile di capelli di Jim Morrison, sì, quel Jim Morrison. E le mani rotonde di Larry Legend, mi sembra un paragone piuttosto complicato. Quello con Larry Bird, ma lo fanno quelli dell'NBA? Ecco, la leggenda però è un'altra cosa, sinceramente. Ragazzo di enorme interesse, probabilmente una prima scelta. Anche per lui avremo spazio in telecronica. E non è il caso di scomodare Larry Legend, sicuramente anche se Morrison è un ragazzo estremamente interessante. Ancora Gonzaga, corone in contropiede, Errol Knight va a subire il fallo. Questa volta ci saranno, anche per lui, come prima apertura, due tiri liberi, due a zero Gonzaga. Fallo speso da AJ Rowland, giocatore che sa tenere in mano questa squadra. I Giles, un buonissimo playmaker. E dall'altra parte, in campo aperto, quello che è stato votato il miglior difensore della West Coast Conference. Conference, praticamente costruita di squadre di Atenei Gesuiti, che reclutano in giro per il mondo e qua di stranieri ne trovate tanti e anche molto molto interessanti. L'australiano che vi faccia notare Alessandro Prima è un signor giocatore. È un livello di pallacanestro che secondo me merita il nostro viaggio annuale. 64% dalla linea di tiri liberi lo dimostra anche l'uno su due. Dalla lunetta di Errol Knight, AJ Rowland. Giocatore estremamente interessante da seguire anche eventualmente in un contesto di mercato europeo. difficilmente forza dei passaggi, fa giocare la squadra ma va anche a cercarsi delle soluzioni personali. Recentemente ha assegnato anche un canestro allo scadere per la formazione di Randy Bennett, che vedete qua inquadrato. Randy Bennett nonostante Luca ha 42 anni, però quando fai l'allenatore c'è sempre da scontare qualche cosa. Ex assistente di Lorenzo Romara, Pepperdine e St. Louis, buonissimo allenatore, in netta crescita. Si è fatto il suo nome anche per la panchina di USC, quando è stato licenziato Bibby, quando Maggeros ha detto beh adesso convediamo, no non vengo. E poi hanno preso Coach Floyd, ex allenatore di Iowa State, sulla parte ai Bulls al piano. Avremo modo di parlare di Randy Bennett durante la telecronica, perché è richiesto anche altrove. Ancora Ronnie Turiaff che ha il suo tiro da fuori dai 4 metri. Questa è una delle caratteristiche che potrebbe far sì che Turiaff vada nell'NBA. Ok, quel tiro da fuori, mentre i Gales cercano di rispondere. Kicker che non ha problemi col tiro da fuori e lo vedete, mette dentro la tripla. 6 e 10, vuol dire 2 metri 6, 2 metri 7, secondo me è un po' regalati. Comunque un giocatore alto e per quell'altezza avere quella mano, che optional. Atipico, piuttosto morbido, ma sicuramente un giocatore interessante. Le braccia sono lunghe, è un bidimensionale. Uno dei tanti australiani che ci sono nel college basketball. Faremo poi una capatina in giro per gli ossi d'America. E come vedete, le mani sono gentili. Attenzione a non lasciar tirare Kicker che se prende fuoco diventa davvero infallibile dalla linea di 3 punti. Recentemente 30 punti per lui in una partita con 4 su 4 dall'arco. Giocatore atipico che porta i suoi difensori lontano da canestro. Battista si va a complicare la vita. Può giocare fisicamente contro Kicker sotto. Morrison cerca di riavvicinare gli Zags sotto di uno in questo momento. AJ Rowland a controllare la transizione ancora dei suoi. Cerca di giocare controllato. Guardate quello che vi dicevo, le spaziature dei giochi d'attacco. L'area completamente libera. Uno dei primi attacchi che cercano i Gales. Ancora Kicker da 3. E questa volta mi sembra che però stia esagerando. 3 su 3 nel giro di 2 minuti. Dicevo, è proprio il penetra e scarica. Penetra e scarica la consueta pallacanestro che vediamo ormai anche negli Stati Uniti. 3 guardie sostanzialmente sul perimetro. Un 4 mobile. Questa è la pallacanestra europea. Non c'è niente a dire. L'abbiamo importata noi. È curioso dirlo ma siamo andati a spiegare a loro che si poteva giocare così. E il partiale è tutto di Kicker. 9 punti di St. Mary's. 9 punti di Kickert e qui andiamo a rivedere AJ Rowland sulla transizione. Questa situazione di gioco blocca dietro. Sa che sta arrivando Kickert. A questo punto dice blocchiamo il difensore. Dietro ho il tiratore che arriva a rimorchio. In quella situazione lì Kickert è una sentenza. Il blocco è movimentato. Come vedete l'attaccante entra nel difensore. E questo arretra creando poi lo spazio per la ricezione dell'australiano. Eccolo Mark Pugh che è tra gli allenatori in attività. E' quello che ha il record migliore. Ambiente da finale della West Coast Conference come notate. E non stupitevi se sono tutti bianchi e rossi. Perché normalmente entrambe le università sono bianco e rossi. E vediamo ancora i Gales. Questo inquadrato è Paul Marigny. Altro giocatore da tenere d'occhio Federico. Recentemente anche lui autore di partite oltre i 20 punti. Ottimo tiratore. E appunto il motivo dell'attacco spaziato di St. Mary's. E' proprio per cercare di dar spazio ai tiratori. Usufruire con i tiri da tre punti. Vediamo la reazione di Gonzaga. Battista lontano da canestro. Morrison che gioca con un pick and roll in movimento. Ancora la palla dentro per il brasiliano. Che questa volta si muove bene. In frazione di passi. Palla persa per i Zags che fanno fatica in questo inizio di gara. Sicuramente. Dall'altra parte la motion offense di Coach Pugh. Che abbiamo visto in tutte le sue partite. Qualche volta sono un po' prevedibili. Devo dire la verità. Però sostanzialmente sono equilibrati. Sono solidi. E tutti si muovono senza palla. E allora è un attacco che comunque si lascia sempre guardare. Anche se quest'anno probabilmente non c'è il giocatore sul perimetro. Che faceva la differenza come negli anni passati. Di dietro. Ma c'è questo Morrison. che obiettivamente dà una dimensione mai vista impressionante. Ancora Canestro e Gales. 11 a 5. Ribatti in attacco era di Schoberg. Morrison questa volta gli viene concesso spazio. Ha migliorato il suo tiro da fuori. In particolare il tiro da tre punti. Lo scouting report di Federico vi stringalava delle cose. E qui le abbiamo viste. Le abbiamo viste. Il rilascio della palla. Che negli Stati Uniti da un giocatore di 2 e 2 si vede piuttosto raramente. Molto molto interessante. È un ragazzo fuori dal coro. Poi vi facciamo la lista delle sue ultime letture. E lì siamo veramente fuori fuori. E J. Rowland va a cercare due punti. E li va a trovare in penetrazione. 11 a 7. Sam Maris sembra comunque in controllo della gara. Sembra aver approcciato questo tipo di partita nel migliore dei modi. Qui ci sono dubbi sul fischio. Probabilmente è un fallo in attacco dopo il canestro di J. Rowland. Randy Bennett non è d'accordo. Dicevamo Randy Bennett che è arrivato. A Sam Maris che Sam Maris non aveva proprio un gran record. No, beh, so. Negli ultimi 4 anni come è andato? Beh, calcolando che quando è arrivato lui l'ultima stagione aveva vinto due partite. Si partiva diciamo dal basso. E le umiliazioni sono arrivate una dietro l'altra. C'è gente che ha preferito pagare 10.000 dollari per andare a una prep school piuttosto che venire qui. C'è gente che è andata a un junior college piuttosto che accettare una borsa di studio dai Giles. Insomma, si metteva piuttosto male. In tre stagioni ha completamente cambiato gli orizzonti. Uno degli allenatori dell'anno. Ronnie Turia fa altro movimento che fa sicuramente interesse agli scout NBA. Palla per terra, penetrazione, due appoggiati. Solido, sa prendere i contatti e le mani assomigliano a quelli di un tramonto all'Erobert in Martinique da dove proviene. Veramente, veramente piacevole. Blocchi per cercare di sbloccare, scusando il gioco di parole, Paul Marigny che deve essere ancora innescato. Morrison è un ottimo rimbalzista. L'avete visto, prendere e controllare gli ultimi due rimbalzi della squadra. Va anche in penetrazione, prende rimbalzi, tira da tre, tira da sotto. Runner in semigancio, questa è scuola bianca americana anni 60-70. Questo è un tiro fuori epoca, è molto bello anche. Stranissima la corsa di Morrison, io l'ho definito da maratoneta, corre molto rigido. Però se notate la posizione difensiva è discutibile, è battibile, spesso sui talloni. Però certe cose che ha non puoi certo insegnare. Ecco E.J. Rowland che va a mettere anche la tripla. Io sono un sostenitore di E.J. Rowland, anche se la sua carriera probabilmente non sarà né nei professionisti, né in squadre di alto livello in Europa, ma potrebbe costruirsi un futuro magari in NBDL e poi approdare più avanti. Ancora Morrison con un tiro da tre. Kickert che vola a rimbalzo. Riparte la transizione. I Gales vogliono comunque giocare a ritmi controllati, non vogliono spingere troppo. Non sono ampissime le rotazioni della squadra di Randy Bennett qui. Maregni va con una penetrazione, un arresto da vicino. Sbaglia però la soluzione. Derek Revio riparte ancora per Gonzaga. Palleggio dietro la schiena. Ottimo controllo del corpo. Ottimo ball ending per Morrison che questa volta si mangia un canestro che era già fatto. Questa volta Sammeris prova a spingere un po'. Maregni col tiro che viene definito dello stupido, cioè quello subito dopo la linea del tiro libero. Però questa volta ha ragione. 18 a 12 Sammeris e Gonzaga fa fatica. Ritmi altissimi tenuti dai Gales, proprio quelli che vogliono utilizzare in questa partita. Però come diceva Alessandro in precedenza, altro runner di destro con veramente palangi delicatissime. Però a questi ritmi i Gales mettono in enorme difficoltà Gonzaga. Il problema è, come diceva in precedenza, Alessandro hanno i cambi per tenere 40 minuti di questa pallacanestro. Gonzaga è sicuramente parte da favorita in questa partita. Però ovviamente rispetto alla partita giocata l'anno scorso, nelle due squadre forse a perdere di più è stata Gonzaga. Anche se c'è stata una notevole crescita di Morrison che come vedete prende decisamente 3-4 tiri su 5 possessi dell'attacco dei Bulldogs. Eccolo Maregni che finalmente si sblocca. 23-14 più 9 e se inizia a segnare anche Maregni per i Bulldogs si fa veramente dura. E infatti più ferma l'emoragia ed è un momento importantissimo della partita. I Gales vengono da una tonnara in semifinale contro Santa Clara, battuta sul suo terreno di gioco. Una gara di nervi, di pura tensione, mentre gli altri hanno passeggiato con San Diego. Ecco, qui possiamo invece rivedere l'azione precedente. Non so perché sia il tiro dello stupido, so che comunque è molto ben eseguito. Tiro dello stupido perché normalmente così viene considerato dai giocatori di basket perché è un tiro apparentemente facile. Però da quella distanza, non è né da fuori né da sotto, è un colpo di ferro 5 al golf, il tiro più difficile. Esattamente. E quindi andiamo a vedere, se Maregni è il riassunto di quello che vi diceva prima Federico, perché per loro è importante questa partita. Adesso però vorrei raccontarvi una piccola storia, permesso che l'RPI è 31. Arriverà anche oggi. E l'uomo rana, mammo, lì potrebbe tornare nella grande palude, non è sicuro ma potrebbe. Qual è il problema grosso? Che domenica se questi non vincessero questa partita, non solo questi dati sarebbero visibili. C'è un'altra striscietta sotto, con chi hanno vinto varie partite. E qui viene fuori una delle loro vittorie di inizio stagione. Contro Notre Dame de Marmour. Chi è Notre Dame de Marmour? Who are these guys? Chi è? Dov'è Notre Dame de Marmour? E il pivot chi è? Quasimodo. Domenica prossima, se qualcuno ha in lista questa squadra, French, Lice e Neris, Notre Dame de Marmour a casa. Next. Morrison, aiutato dal ferro, riavvicina i Bulldogs. Notre Dame de Marmour la metteremo nella lista dei misteri insieme al Silvio Conte. No, è arrivata l'Aimel degli amici Ottavio. E qua non ci lasciano, infatti stai tranquillo che ti girano dove notre Dame de Marmour. Perfetto. E vediamo come sono usciti i Bulldogs dal time out in Mark Few, sicuramente con un approccio difensivo decisamente diverso. Vogliono andare con la palla dentro ma fanno fatica ancora a giocare sul perimetro. Si va con la penetrazione, con lo scarico nell'angolo. Questa volta fatica per l'attacco di Sammeris che non riesce veramente a trovare spazi. Si va a finire con la palla nelle mani di AJ Rowland che deve lanciare un piccione per aria con un secondo allo scadere dei 35. Questa volta la faccia di Randy Bennett spiega come hanno attaccato i suoi. Esatto, cambio di scelta difensiva. Anzi, scelta difensiva differente di Coach Few. Stiamo con i tiratori. Nelle situazioni di penetra e scarica, chi è sul lato debole resta col potenziale ricevitore. Semmai ci facciamo battere per un tiro da due, ma restiamo sul perimetro. E la prima risposta di Gonzaga è di quelle interessanti, una di quelle che può cambiare la configurazione di una gara. E qui vediamo gli highlights di Paul Marigny, giocatore assolutamente incandescente, che può diventare incandescente. Anche Kickert, vi dicevo, delle soluzioni dalla grande distanza dei Gales. Ecco le quali percentuali, 4 su 7 da 2, 5 su 8 da 3 per Semmeris. Gonzaga risponde col 5 su 8 da 2, 1 su 3 da 3. Adam Morrison, padrone dell'attacco dei Bulldogs, che ancora una volta cercano di andare vicino a canestro, cerca spazio Battista, questa volta è la penetrazione del nostro uomo. Abbiamo bisogno di un time out per nominare, possiamo dirlo, Pierre-Marie Altidors-Spedes, che è il numero 4. Infatti gli americani fanno in fretta, lo chiamano PMAC e da lì non si esce più. Per comodità lo faremo anche noi, mentre qui Battista va con un'infrazione di passi d'attacco e le immagini ci portano direttamente al possesso offensivo di Semmeris, che va a giocare spalle a canestro, 23 a 16, ancora in controllo della partita. Vediamo che mette la palla per terra, questa volta Brett Collins, 6.3 punti a partita per lui, non gioca tantissimo, ultimamente qualche minuto in più. Sicuramente è il futuro di Semmeris, ma non è e non può essere il presente in questo momento in attacco. Qui c'è un fallo in difesa sul tentativo di posizione del brasiliano Battista. Nodo fondamentale della gara, come vedete attaccano ancora 5 fuori e la difesa di Gonzaga deve tenere quella penetrazione. Se possono attaccano proprio contro Morrison, che ha tenuto discretamente, però su quella situazione tattica ruoterà molto del futuro della gara e anche del futuro dei Giles. Ecco Turia che va a cercare un canestro da sotto, non trovato, grazie anche alla buona difesa di Frederic Ajiwano. La stranezza dei nomi ci perseguita in questa partita. Kickert che mette palla per terra, viene chiuso questa volta da Pimec, che facciamo prima, ancora palla nell'angolo dei Giles e si vuole lasciare il lato libero, uno contro uno, Kickert ancora con spazio fuori dalla linea dei tre e veramente questo è un errore per i Bulldog che prendono un'altra triple a 12 con 4 su 5 da 3. Questo è l'unico giocatore che proprio non riescono a riconoscere sul perimetro, è scomodo per tutti. Poi invece raddoppiano il post basso contro il brasiliano che è diventato talmente forte da avere l'onore di un raddoppio. Adam Morrison mette la palla per terra con la mano sinistra, va però a cercarsi dei guai sul lato dove Ronit Turia aveva preso posizione spalacramezzo. Se ti posso dire l'unico limite che io vedo in Adam Morrison, mentre qui andiamo a rivedere una soluzione offensiva dei Giles, dicevo che troppe volte va a forzare situazioni di uno contro uno dove ci sono dei suoi compagni. Sì, sicuramente deve ancora imparare molte parti della pallacanestro offensiva, però lo vedi che ha proprio una facilità a giocare fuori dal mondo per essere un sophomore e uno di quelli di cui si è parlato anche relativamente poco. Difensivamente Gonzaga ha avuto dei problemi ad accoppiarsi con Kikker nell'azione precedente, come ci facciamo vedere dal replay, mentre sembra in terza media Raivio, ma quando tira siamo a un livello di scuola superiore. Poi soprattutto parlavamo del giro della marmotta, mentre c'è un tiro apprezzato di Maregnì, questa volta mal preso. Vediamo un attimo il contropiede di Pimek per Ronit Turia, che corre bene in campo aperto e va a mettere la schiacciata. Meno 5 è una giocata che può cambiare l'inerzia della partita. Ha fatto venire la mamma e la sorella da Parigi recentemente, però potendole portare in giro per Spokane non è andato molto oltre i grandi magazzini, perché Spokane offre pochino. Ancora, solito spazio in attacco, AJ Rowland si vuole andare a giocare da Ajiwano sotto canestro, anche per cercare di caricare di falli i lunghi degli Zex. Kikert con la mano in faccia. Ebbè, mi sembra che questo la mano ce l'abbia, e come? Zona di Gonzaga sull'ultimo possesso, battuta ancora una volta dall'australiano, che sta tirando in maniera irreale, ai confini della realtà. E in maniera irreale sta tirando anche Semeris il 70% dall'arco. Vediamo Adam Morrison che vorrebbe il lato per uno contro uno, questa volta invece c'è il buon anticipo di Ajiwano. La palla però rimane da questa parte, il possesso offensivo è ancora per i Bulldogs, ma che Semeris? È tutto l'anno che Semeris aspetta questa partita, tra l'altro, se vogliamo proprio essere precisi, Gonzaga l'ha già battuta in una delle due partite di regular season, quella giocata a casa dei Giles, e questa partita loro la sentono tantissimo, sono carichi come non mai, stanno reggendo sotto canestro, non devono concedere secondi tiri. Quale il brasiliano si fa largo a spallate, segna e credo ce ne sia ancora. Segna e subisce il fallo, sei punti in difficoltà, Turiaf cerca di tappare con delle pezze le falle sotto canestro, Battista che si muove decisamente bene, sta facendo un ottimo lavoro Ajiwano su Turiaf, però Gonzaga ha due big men, e obiettivamente la coperta è corta, se la tira da una parte, dall'altra si scopre qualcosa. Kikert, eccellente giocatore in attacco atipico, in difesa però contro questi tipi di giocatori fa fatica. E in più Gonzaga ha una front line imponente per il college basket, perché ha due giocatori di 2-5, come diceva Alessandro in precedenza, e Morrison che è un 2-2, gli altri giocano a tre guardie, hanno qualche accoppiamento complicato, uno nella posizione 3, uno nella posizione 4. Effettivamente è una partita difficile nel lungo periodo, per Sammeris che può stare in gara se tiene questi ritmi, e riesce a tirare, come sta tirando fino adesso, contro zona. E direi che l'australiano non è certamente un inibito. Attenzione, segnate con una X l'ottavo minuto, perché Kikert ha sbagliato una tripla, adesso è ancora lui sul possesso di palla, avete visto precedentemente Gonzaga, che ha allungato la difesa partendo da 1-3-1, per cercare di andare a recuperare qualche pallone, per riportarsi sotto Turiaf, questa volta lavora benissimo a rimbalzo, P-Mac a guidare la transizione, il futuro in playmaker per P-Mac, una volta uscito dal College of Radio, sarà sicuramente lui il possessore delle chiavi di Gonzaga, e questa volta Battista, che come avete visto è riducita in una partita di 24 punti, va a segnare ancora. Bellissima secondaria di Gonzaga, che è molto efficace in queste transizioni, eseguite con molta molta tecnica, e buon movimento collettivo, come vedete c'è una curva autentica, con bandiere internazionali, dovevo segnalarvi che però, l'australiano degli altri è seguito da una posse micidiale, che corre nuda, avvolta nella bandiera australiana, e vengono regolarmente fermate dai poliziotti, quando non giocano in casa, perché ci sono dei limiti, e comunque resta un paese bacchettone, in più su Università Gesuite, fate i bravi. Paul Marini ancora con la tripa, per ridare 6 punti di vantaggio ai suoi, ancora gli Zex, che vogliono andare ultimamente in questi possessi, vedete insistono per andare spalle a canestro, prima non ho finito un discorso, parlavamo di Derek Radio, e ho annunciato ancora il giro della marmotta, giocatore bianco, playmaker, che fa canestro da 3, l'abbiamo già visto altre volte a Gonzaga. Sì, non è un Diccao, non è un Sant'Angelo, perché questo qua mi sembra più playmaker, e con distanze di tera un po' diverse, però è sorprendente, perché per certi versi è più regista degli altri, e gli dà una dimensione un po' particolare, non è la Gonzaga degli anni passati, al di là delle similitudini tecniche. Eccolo gli highlights di Kickert, guardate la facilità, non ha una velocità di esecuzione, ma però ha un movimento obiettivamente fluido, se ce n'è uno. Fluido se ce n'è uno, tira from down under, da casa sua, veramente d'acqua internazionali, classico giocatore che col corpo addosso fa più fatica, quando la mette per terra, il suo palleggio è ancora un po' lacunoso, se gli dà i due metri, ecco la posse, che come vedete impazza, gli hanno messo addosso qualche cosa, perché siamo anche in trasferto a Santa Clara, primo Ateneo, primo Ateneo della California, come data di nascita. P-Mac in palleggio a chiamare i giochi offensivi per gli Zags, sale Battista in postalto, cerca il ribaltamento per Delecco Revio, che andrà sul pick and roll, questa volta lo sfrutta bene, poi prende un tiro da tre, un po' forzato, ma per Delecco Revio non c'è un tiro forzato. Questo è veramente il sesto punto di Revio, che ha qualche cosa di speciale questo ragazzo, ha delle doti sorprendenti, secondo me non sapevano fosse così forte quando l'hanno reclutato. Adesso poi, tra l'altro, gli Zags si possono permettere di arrivare in Bay Area, corsari e portare via alcuni dei migliori giocatori della Baia, proprio da un high school, che al nome Sam Mary sono andati a prendere un ragazzo di origine greca, molto forte per il loro futuro, anni fa quando arrivava quelli di Gonzaga, e diceva sì. Bravi, per carità voi di Spokey, noi staremmo qua. Ma che tiro ha fatto? Il suo tiro, grande rotazione, dodicenne, devo dire la verità, faccia dodicenne. Gli manca anche il fisico, non si sa dove trovi la forza di scagliare la palla. È uno dei giocatori più sorprendenti nell'interno panorama del college basket. La zona torna ad attualità. Zona con principi di matchup, una volta che l'attaccante è in possesso di palla, escono quasi a marcare a uomo, come vedete però di zona matchup si tratta ancora Kickert matchup perché non vogliono concedere più tiri da tre punti facili. Si va a giocare in una situazione di penetra e scarica con tentativi di pick and roll. Ancora i guess che vanno in penetrazione, questo è il modo di attaccare questa zona, ma Kickert ha ancora il modo di trovare un tiro da tre. A rimbalzo Turiaf riparte P-Mech a spingere la transizione degli Zex, questa volta si butta dentro un tiro sbagliato. A rimbalzo ancora Battista, questa volta si fa sentire anche Turiaf a rimbalzo. Fino adesso un po' invisibile, questa potrebbe essere una delle giocate che accende il francese. Certamente è così. Questa è la differenza tra Gonzaga e il resto della conference. Troppi giocatori che possono andarti a rimbalzo fisicamente e di potenza e concedere secondi tiri quando la squadra sta imbarcando acqua dall'altra parte. La zona come vi faceva notare Alessandro è per accoppiarsi sul perimetro con i tiratori, che obbliga i due di dietro a fare dei movimenti un pochino innaturali. Alla fine però stanno contestando i tiri che arrivano dai 6 metri e mezzo e questo cambia la gara. Come vedete è riduce da una pessima partita di soli due punti insegnati contro l'Università di San Diego. Nervosetto, perché c'era la mamma e la sorella, è spinito per averle portate da tutte le parti, in più delusissimo perché la squadra femminile di Gonzaga ha perso e sono tutte figlie sue questi qua, perché le va a sostenere in tutti i campi. Quando va a vedere il baseball ha chiesto informazioni su quando bisogna incitare perché non sapeva quale fosse il momento giusto per urlare per la bella giocata o meno. Ma presente in tutti i momenti della vita universitaria di Gonzaga, sportiva enorme. Dall'esultanza di Scholberg immaginiamo un fallo probabilmente di Pendergraft che in questo momento è seguito dalle telecamere della ESPN. Prima una giocata sicuramente fuori dalle corde di AJ Rowland che è andato a cercare avventure spalle a canestro in mezzo all'area e poi dopo aver preso il rimbalzo offensivo ha sbagliato un'altra volta non necessariamente quello che gli chiede Randy Bennett. Fatto sta che Sammeris è ancora avanti di due punti, in questo caso Maregnier è stato perso ancora una volta dall'angolo. Troppe disattenzioni difensive da parte degli Zags che concedono troppi tiri facili da fuori a Sammeris che ancora una volta è in possesso della palla con cinque minuti da giocare. Vedete sempre la zona matchup degli Zags che seguono il portatore di palla cercando di contenere le penetrazioni allora si esce per cercare il pick and roll. Questa volta Rowland non si azzarda nel tiro, ancora un penetra e scarica. Scholberg che non ha il tiro da fuori decide di rinunciare. Questa volta si prende, anzi direi un'altra volta, si prende un tiro da fuori per Sammeris che dovrebbe attaccare un po' di più con le penetrazioni. Situazione un po' statica ultimamente. Ancora Morrison, ecco quello che vi dicevo. Troppe volte si interstardisce a giocare uno contro uno. qui c'è l'infrazione di passi. Perché è ingosito dal fatto di essere marcato da Collins che avete notato nella situazione offensiva. Dall'altra parte seguito sul taglio all'interno della matchup ritiene di avere un vantaggio fisico e di tonnellaggio tale per poter giocare in avvicinamento. A mio modo di vedere quando gioca così però si rende un po' innaturale la sua palla canestro perché gli manca l'agilità per giocare gli ultimi tre metri di sola potenza. Però quando hai un vantaggio di chili di quel tipo tendenzialmente lo vuoi sfruttare. Ancora Sammerisi in possesso di palla in attacco ha soli due punti di vantaggio in questo momento possesso decisivo. Maregni va dentro, si va a beccare una stoppata niente meno che da Errol Knight. Poi AJ Rowland. Manca poco ormai allo scadere dei 35. Esattamente 10 secondi AJ Rowland va a giocare sul pick and roll. Scarica la palla sul perimetro. Scholberg chiama il pick and roll per il suo playmaker che si alza con la tripla. Era un canestro fondamentale questa volta. Sbaglia Rowland ma è di nuovo in possesso d'attacco. Ribaltamento sul lato dalla parte opposta per Wolberg. Penetra, falleggia, arresto e tiro. Questa volta finisce corto il tiro del Mancino. C'è un fallo sotto canestro. Fallo in attacco ai danni di Revio. Possesso Zags che possono o pareggiare o andare in vantaggio. forse, credo, per la prima volta in tutta la partita o in una delle prime volte in tutta la partita. Tanti motivi tecnici effettivamente negli ultimi possessi. Continuano ad attaccare con situazioni di pick and roll se possono i Giles. Attaccando con l'uomo di Turiaf. Turiaf ha le braccia molto lunghe ma non è agilissimo nei movimenti di show, di step out. E questo genera qualche buon tiro sul perimetro. Però i tiri che entravano fino a 5 minuti fa adesso vanno regolarmente a corti. Questo sta un pochino rendendo la vita complicata a Mareni che sta cercando di forzare andando dentro con la palla. Dall'altra parte, ancora una volta, la fisicità di Gonzaga sta prendendo il sopravvento in questa partita. E invece quando siamo arrivati a metà marzo si parla di una cosa sola, della grande bolla. Della grande bolla dell'RPI. Ti ho detto che l'avrei tirato fuori puntualmente. Non vorrei però, semplicemente per dirvi mentre rivediamo la grafica precedente vedete se Maris è sotto il valore dell'RPI è 31. È una valutazione che sta facendo la ESPN su chi è più o meno avvantaggiata la SOS. Come vedete lì è la straight off schedule ovvero la difficoltà del calendario delle partite che dovranno giocare. La West Coast Conference recentemente è salita al settimo posto nell'RPI. E questo è il colpo copo che compensa in parte Notre Dame de Narmour. E cioè il comitatone sta dando un livello, un valore al livello della conference tale per cui aver vinto tanto all'interno di questa conference ti aiuta anche la domenica. Però secondo me Notre Dame de Narmour è la zoppia, è veramente il grande peso. Andremo a cercare sulla cartina geografica dove si trova questa domenica. Ma anche quando l'abbiamo trovata secondo me non risolviamo il problema dei Giles che domenica Notre Dame de Narmour ah va bene niente. Diciamo che sicuramente è più di peso la vittoria che Sammeris ha avuto contro Gonzaga durante la regular season di cui vi parlava Federico in precedenza. Maregnè a battere due tiri liberi. Maregnè 83% dalla linea dei tre punti ma oltre a questa ottima percentuale 45% dalla linea dei tre. Lui, abbiamo parlato di Kickert, un altro che avete visto adesso inquadrato 46% dalla linea dei tre punti. Esatto, è notevole recupero dal punto di vista atletico calcolando che nella sezione 2002-2003 è stato fuori tutto l'anno perché si è fatto i legamenti. Di solito i giocatori che si sono fatti i legamenti non ritornano così brillanti. Questo mi sembra invece totalmente recuperato. Giocatore molto interessante anche in una prospettiva oltreo c'era. ancora P-Mac con la palla in mano per decidere le sorti dell'attacco. C'è un doppio blocco in punta per cercare di liberare Errol Knight. Adam Morrison addirittura si cerca a spalle a canestra non c'è lo spazio allora decide di giocare sul perimetro Errol Knight. Questa volta dall'altra parte si cerca Ronnie Turiav. Legge benissimo il passaggio dentro AJ Rowland. Tocca la palla e consentirà un attacco difficile a Gonzaga. Ancora una volta di ESPN ci taglia l'azione. 8 secondi soltanto da giocare. C'è un tocco. Vediamo l'espressione di P.J. Battista. Dovrebbe essere comunque ancora un po' sesso in attacco per gli Zag. Rimessa dal fondo. Esce Adam Morrison. Quando c'è da prendere un ultimo tiro il 90% delle volte se lo va a prendere lui. Rimbalzo offensivo di P. Mac che non trova spazio sotto canestro. Marigny esce con la palla in mano. Guida lui questa volta la transizione per Scholberg che incredibilmente corre splendidamente il campo. Splendido finale per i Giles. Duri a morire. Questa è una partita vera. Ce l'aspettavamo di questo tipo. Magari il problema di Narmur non sarà così rilevante. Potrebbero addirittura vincerla. Si cerca ancora. Ronnie Turev. Spalle a canestro. Non riesce a sblocarsi il francese che ancora una volta vede il cinese buttargli fuori la palla dal ferro. E quando intendiamo il cinese è il cinese. non so se avete preso il cappello del cinese quando la palla sta per andare dentro esce il cinese. Non ce l'ho presente ma mi fido. È un modo di dire guardate Scholberg come corre il contropiede. Se questo ragazzo migliora veramente con i piedi ed è già migliorato tanto può diventare un lungo estremamente interessante. Estremamente interessante e ce n'è del gran bisogno questa sera. Che partita? Veramente sapevamo sarebbe stata una gara di questo genere ma finché non la vivi non ci credi più in fondo. Nonostante qualche errore in attacco ottima lettura fino a questo momento della partita per i Geltz questo invece è quello che non vuole Randy Bennett da A.G. Rowland che normalmente invece gioca una pallacanestro molto più intelligente molto più accorta Adam Morrison va a prendersi sulla linea di fondo un fallo non c'era posizione difensiva da parte di Brett Collins ci saranno probabilmente due tiri liberi per Morrison se posso dirti ancora leggermente invisibile da alcune paio di giocate all'inizio gara ma obiettivamente è lui l'ago della bilancia Sì, avevo messo più fish probabilmente del giusto su di lui entrando in questa gara mi sembra che questa marcatura di Collins lo stia rendendo un pochino innaturale nella sua pallacanestro potrà come si diceva ai tempi di Coach Peterson parlarci sopra nell'intervallo perché questa è una marcatura che lui può sfruttare meglio e avrà sicuramente da parlarci sopra nell'intervallo Randy Bennett nonostante i suoi tratti non è contento no, non è contento a proposito di Coach Peterson che ha 40-45 anni ricordava i primi telecronica della NBA e lui impazziva e faceva un stetico personaggio per questo Lorenzo Romar che è il maestro di Coach Ben che è il maestro di Coach Ben che recentemente ha dichiarato no, no, no ma non mi meraviglio che lui in questo momento stia facendo così bene a San Maris aveva semplicemente bisogno di avere un'occasione sono apprezzato più di disturbo che per recuperare da parte degli Zegs più di disturbo per rallentare la prima parte dell'azione infatti vedete che poi ritornano nella consueta match-up si va dentro da Scholberg che si merita in questo momento il possesso in attacco per le cose fatte vedere da questo momento in campo c'è anche il marocchino se avremo modo vi racconteremo anche di lui E.G. Rowland ancora sotto canestro va a cercare una soluzione estremamente difficile la difesa degli Zegs ha capito che manca un po' il tiro dalla media a Rowland cerca di consentirgli la penetrazione poi una volta lì sotto fa fatica contro le braccia dei lunghi bulldogs ancora Revio con la palla in mano che è rientrata in campo per gli ultimi possessi decisivi c'è un fallo in attacco in difesa scusate proprio per il marocchino che non riusciva a tenere Revio ha appoggiato le mani faccia da marocchino qui è un'autentica ONU se volete una conference con gli stranieri questa è quella giusta la chiave difensiva di Gonzaga al numero 22 Errol Knight non a caso votato miglior difensore della conference avete notato come ha oscurato completamente la situazione per il penetratore nell'azione precedente questo è un giocatore che serve tantissimo in questo sistema di pallacanesta è un sesto uomo ideale cambia la configurazione delle partite può prendere uno contro uno quattro quinti dei giocatori della conference veramente forza pura una pera di ginseng difensiva per una squadra che può andare anche lì nei momenti del bisogno un po' di riposo per Ronnie Turia probabilmente Max Hill lo mette in panchina per preservarlo nell'ultimo minuto da qualche fallo che potrebbe costargli ecco Derek Revio 91 è sempre quello delle high school delle medie 91% ai liberi sembra ringiovanito ogni quadratura sembra più piccolo ogni quadratura è la macchina del tempo probabilmente non è una telepranca della ESPL perché ringiovanisce obiettivamente non ci spieghiamo come faccia a stare in campo con atleti comunque di quel calibro lui con quel fisico ancora possesso per il Gales eccolo l'accoppiamento Errol Knight quello proprio di cui vi parlava Federico difensivamente è lui che cambia la partita è lui che cambia la partita all'interno della matchup si accoppia sul perimetro nel modo giusto ha proprio cambiato completamente i tipi di orizzonti che vedono gli attaccanti braccia lunghe grande mobilità facilità impressionante al movimento laterale guardatelo qua in queste situazioni ti rendi conto chi vince le partite perché come dicono in America anche se è tratta dal football l'attacco vende i biglietti ma è un'altra cosa che vince le partite della fase di dietro esattamente poi Brad Collins ha cercato di aggrapparsi con tutto il peso non l'ha mollata comunque quella palla 44 secondi sul cronometro per finire il primo tempo c'è questa volta un fallo offensivo fischiato ai danni di Jonathan Sanders cosa ne pensi di questo fischio? si potrebbe rivedere posso dirti cosa ne pensa Bennett se vuoi Bennett cosa ne pensa Bennett ce lo fa vedere anche semplicemente con la sua faccia e Marquiu va per il possesso offensivo con Morrison al posto di Flynn possesso offensivo che potrebbe risultare di Knight scusate che potrebbe risultare decisivo Morrison in questo momento non proprio dentro la partita se dovesse prendersi lui questo possesso e magari trovare anche i due punti cambierebbe decisamente l'approccio offensivo va a prendersi la tripla da 8 metri obiettivamente una giocata dove sei così fuori partita a prendersi quel tiro lì non la migliore delle giocanze sfrontato questo ragazzo veramente sfrontato non a casa è uno dei pochi che ha superato l'autobiografia anzi la biografia su Che Guevara 813 pagine di un certo Henderson si è riletta due o tre volte è un po' uno Steve Nash uno contro uno diverso in senso buono del termine e la faccia di bronze è anche quella di Steve Nash che andava a scuola a Santa Clara cioè su questo campo e la contromossa dalla partita a scacchi e stavolta Bennett per il suo ultimo tiro mette dentro Kickert ancora la difesa allungata dei Bulldogs semplicemente per disturbare si metteranno sicuramente a difendere ancora con la loro zona matchup anzi mi sembra che sia una uomo sale con il pick and roll questa volta si decide di andare dentro ottima soluzione offensiva c'è uno scarico per Collins era un ottimo tiro molto ben preso però questa volta Collins probabilmente non tanto in ritmo perché è uno dei primi tiri che si prende dalla partita 15 punti di Kickert con 5 su 8 da 3 punti anche se non segna negli ultimi 9 minuti ma lì di Sandor di Santa Clara è tutta da giocare alla finale della West Coast Conference a tra poco per il secondo tempo un omaggio alle grandi firme femminili del cinema 5 film un documentario esclusivo perché registe si nasce obiettivo donna tutti i mercoledì su Sky Cinema Autore alla spagnola all'inglese alla tetisca di Germania e alla France puoi giocarlo come ti pare ma il calcio resta lo spettacolo più bello del mondo con tutti i gol dei campionati d'Europa il commento delle grandi occasioni senza prendersi troppo sul serio fammi la classifica di cui prenderesti a schiava guarda 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 quando con lei francese sembravi Michel Ferro il vizietto Fabio Caressa Stefano De Grandis Mondo Gol tutti i lunedì alle 19.30 su Sky Sport 1 da sempre Piaggio realizza non solo veicoli ma soluzioni per i propri clienti nasce oggi Quargo il nuovo modo di interpretare il trasporto professionale nuovo Quargo pick up pianale ribaltabile e chassis l'aiuto più grande che puoi dare al tuo lavoro grande nel risparmio grande nella portata grande nella flessibilità e grande nella maneggevolezza e con l'offerta senza pensieri tre anni di garanzia e i tagliandi compresi nel prezzo Quargo lavora di più spende di meno Vieni a dare un ritmo alle tue risate guarda quanto esistono tutte pazze e sgangherate piccoli teppisti ma una grande ironia qui a Nickelodeon sei sempre in sintonia se ti vuoi stravolgere con la simpatia vieni a Nickelodeon non c'è monotonia tanti movimenti da ballare tutti i momenti e se non ti sintoni ti cascano tutti i denti perché Nickelodeon è la dico come vuoi te ogni secondo il mondo cambia ogni giorno gli uomini lo sfidano ogni anno gli eventi lo trasformano è un mondo di emozioni che non si ferma mai ogni 30 minuti noi ve lo raccontiamo Sky di G24 canale 500 di Sky emozioni senza filo attimi senza respiro passioni senza confini è fantastica giocata il mondo non basta ammazzo su Sky Sport la veduta esterna del Levis Center San Maris ancora avanti di un punto in questa partita 35-34 è partita decisamente bella Federico molto bella grandi difficoltà iniziali per Gonzaga giocare contro i 4 fuori alle volte 5 fuori di San Maris questo è il tema tecnico iniziale della partita che ha preso subito la piega che voleva Coach Bennett dall'altra parte la fisicità che ha garantito i secondi tiri oltre le mani fin troppo belle di Morrison e la possibilità di andare a secondi tiri che hanno tenuto a contatto la squadra che era sotto cioè Gonzaga poi è entrato il giocatore che la cambia difensivamente questa partita ve ne abbiamo già parlato con il numero 22 Errol Knight Gonzaga cambia tante difese passata uomo match up a zona senza match up e ha cambiato i ritmi della partita che sono diventati più quelli che volevano gli Zags che sono a contatto e adesso metteranno in corpo la front line metteranno in campo la loro front line immensa e ne faranno un fatto fisico per i prossimi 20 minuti primo possesso per gli Zags eccolo Errol Knight che cerca il ribaltamento sul lato volevano andare con la palla dentro a Turia dal post alto Morrison che va a giocare il pick and roll viene forzato sul lato invece dalla parte opposta da dove arriva il blocco Derek Revio con la palla in mano sale Battista si cerca Turia e questi probabilmente sono gli ordini di scuderia di Mark Few che vuole coinvolgere di più il suo francesone c'è sempre la mamma in tribuna c'è sempre la mamma con la serie è nervosissimo però con la faccia giusta per questo tipo di partite come volete Hugh vuole andare dentro vuole giocare con i suoi due lunghi più Morrison e vuole metterla sulla fisicità ancora AJ Rowland a giocare con il doppio pick and roll sceglie di andare a destra questa volta sbaglia ancora in passaggio inusuali errori offensivi da parte di AJ Rowland giocatore decisamente più ordinato Morrison che questa volta forza e questa volta ha ragione sorpasso Gonzaga penso da molto tempo a questa parte questo è un tiro difficilissimo praticamente è un tiro a una mano sola in situazione neanche tanto agiata vuol dire che proprio lui si tira tantissimo delle sue doti aveva già deciso di prendere quel tiro quando ha superato metà campo e vediamo la risposta di Sam Maris che per la prima volta dopo tanto tempo si ritrova sotto di uno costretto a rimontare sempre la difesa di attesa dei Bulldogs che mi sembra a uomo nonostante conceda tanti spazi ai Gales e questa volta la palla va a spalla crescita e a Jaume che va verissimo con un passaggio sotto per Jonathan Sanders ma che passaggio tutto questo è derivato dal fatto che fanno fatica ad accoppiarsi con l'australiano perché ne Battista e Turriath lo vogliono seguire e avete visto che Turriath ha abbandonato male la sua posizione difensivamente concedendo il backdoor ancora palla per gli Siax in attacco con Derek Revio che penetra trova una palla misteriosa per Battista che si immaggia un canestro da sotto il brasiliano ottimo passaggio del ragazzino delle medie questa volta si tuffa Errol Knight sempre la sua presenza difensiva per cercare di mettere un po' di pressione ai Gales per cercare di lanciare gli Zags che potrebbero prendere fuoco in ogni momento e qui andiamo a rivedere la palla sotto canestro per Juano arrivare a doppio di Morrison non si scala dal lato debole ci sono due punti facili sotto canestro per Jonathan Sanders si gioca già in campo al Levis Center palla sotto per Kikert che va anche spalla a canestro penetrazione a centro area da Juano che questa volta non trova spazi penetrazione invece di Marigny che va a trovare la stoppata di Ronnie Turiat che finisce fuori dal campo non va quindi il tentativo da parte di Battista per tenere la palla in campo se Rikert gioca vicino a canestro favorisce gli aiuti e come vedete se ci sono gli aiuti Turiat diventa scomodo perché a questo livello può intimidire per davvero se invece Turiat è obbligato a giocare lontano da canestro allora quei penetra e scarica diventano interessanti perché la penetrazione può andare fino in fondo qui Rikert era allo scadere di 35 secondi costretto a forzare un tiro dalla media distanza un tiro malpreso Bennett ha qualcosa da ridire con i suoi assistenti non contento di questa scelta e non c'è niente di più difficile per una squadra come Semmenes rientrare contro Gonzaga dopo un primo tempo per 10 minuti semplicemente perfetto devi sperare che i tuoi ci siano ancora mentalmente perché si accorgono di avere la chance della vita nelle mani e lì diventa scomodo perché la palla pesa già mezzo chilo in più quando rientri dopo l'intervallo ancora Morrison con i suoi classici tiri dai 2, 3, 4 metri se ti posso dire lui riesce a prendere questo tipo di tiro al college ma se rimane con questa dimensione se dovesse andare poi al piano di sopra come ci si aspetta diventa un po' più difficile contro quei centimetri il tiro sbagliato ancora di Roland lancia la transizione di Morrison che in campo però sa correre gioco da 3 punti per lui o meglio possibilità di gioco da 3 punti per lui che si accende ancora al sorpasso per gli Zegs e ci va di sicuro secondo me al piano superiore in questo momento sarebbe una scelta attorno alla 20 è soltanto un sophomore l'ultimo Zegs a uscire anzitempo e nel 97 Paul Rogers i motivi erano altri questo mi sembra un giocatore adattissimo al piano di sopra la faccia è anche quella per portare qualche signora secondo me in più al palazzo tra l'altro abbiamo parlato abbastanza male di lui o comunque eccolo qua lo stiamo osservando lo stiamo osservando abbiamo parlato di scout qui ce n'è uno che non è uno scout ma tratta di NBA sicuramente Danny Ainge ha qualcosa a che vedere con i Boston Celtics se ti posso dire giocatore bianco Boston Celtics il binomio non sarebbe malissimo il spettore ben ci vede dicevo che comunque sia nonostante sembra che stia giocando una partita un po' sottotono 15 punti con 6 su 11 dal campo si si sotto il rada per certi aspetti ma non per altri secondo me tra Sanders e Collins lo marca meglio Sanders che come vedete gli mette il corpo addosso faccia a faccia c'è un fischio arbitrale che potrebbe anche andare contro Sanders ed è uno dei momenti chiave della gore esatto folle contro Sanders che lo stava prendendo proprio fisicamente per non farlo ricevere è curioso vedere due curve bianco-rosse l'una contro l'altra non si capisce qual è la curva dell'una e quella dell'altra bisogna andare a guardare gli striscioni o le magliette addirittura con la maglietta che ho scritto The Kennel esatto perché l'ex palazzo dello sport di Gonzaga che si chiamerebbe Bulldog sulla carta qua 2 sempre per il nostro amico Morrison si chiamava il canine si chiamava il canine 18 con 7 su 12 dal campo in questo momento della gara si fa sentire decisamente di più il ragazzo bianco il sosia di Jim Morrison che va a mettere 4 punti in fila Kickert che tira 8 metri e mezzo davanti alla sua panchina e questa volta va a mettere la tripla 6 su 9 da 3 40 a 41 Semeris che non può assolutamente perdere il contatto Turia si muove splendidamente sotto canestro due appoggiati al tabellone in questo momento altissima intensità altissima intensità e Gonzaga continua ad andare in post e difensivamente i girls fanno fatica su quel punto del campo anche perché questi sono come dicono gli americani relentless ci vanno su ogni possesso ti buttano addosso il corpo devi avere a che fare con i dorsali di Turiaff da qua fino alla fine e tu hai parlato del Kennel mentre qui andiamo a rivedere come corre in campo aperto Morrison come non ha problemi a mettere la palla per terra con la mano sinistra si sono trasferiti in un palazzo più grande perché dicono lì non ci stanno più da questa parte col palazzo più grande 600 in lista d'attesa per l'abbonamento ma come e certo perché adesso va di moda a Gonzaga eccoli qua quelli della post ma li abbiamo vestiti questa è la versione annacquata possiamo anche togliere il quadratura perché non vale la pena e va anche aizzare quelli dell'altra course certo e sarà scappato ai poliziotti tipo le comiche Snoop le teste matte Keystone Copes che c'erano una volta anche visibili in Italia poi torneremo a parlare di Morrison che è un giocatore ammorbante ed è uno dei tanti motivi per cui Gonzaga è di moda non è più una mid-major come si diceva una volta c'è una squadra di medio livello con possibilità di sorpresa questa è una grande del college basket Mary Nick sbaglia con la tripa i Gates non possono permettersi di perdere il contatto con questa partita sarebbe veramente difficile recuperare contro questi Zags che vanno in contropiede con Derek Revio lancia dall'altra parte Morrison che non ci pensa due volte nonostante un pessimo controllo della palla si alza mette due punti primo parziale forse decisivo lo dimostra anche la faccia di Morrison che si sente caldo più cinque ancora gli Zags a cercare di tenere in difesa vogliono prendere il possesso di questa gara mette la palla per terra Collins che va a subire un contatto e forse in questo caso questo fallo aiuta a rompere un po' l'inerzia per semente secondo me Collins lo può mettere più in difficoltà di stendere sull'altro lato del campo come vedete non è in condizioni atletiche fantastiche e non è la prima volta che lo vediamo a Simare ci sarebbe un particolarino non secondario è diabetico si è sicuramente fatto un'iniezione anche nell'intervallo e ne fa come tutti quelli che sono afflitti da questa tremenda malattia tanti al giorno e le fa pugnalandosi ormai i diabetici non ci pensano più guardano se ci sono sguardi indiscreti attorno e poi si fanno l'iniezione direttamente nel maglione ne ho visti tanti ho visto anche lui farsela così all'inizio della carriera forse ancora adesso Morrison doveva rientrare in panchia per farsi controllare il valore del sangue se dovessero essere tutte le volte che sono fuori o sono sballati questi valori come diceva Federico arriva l'iniezione Rosaga più 5 cerca di andare e di aumentare il suo vantaggio fa con un tiro da tre punti di radio che aveva i piedi da un'altra parte ma ha tirato lo stesso con le spalle rivolte a canestro Battista ancora bene a rimbalzo offensivo la palla rimane da questa parte altro secondo possesso è dura per i Giles i secondi possessi fioccano d'altronde sotto canestro come diceva prima Federico l'unico Black Scholberg che è un bianco con i capelli rossi quindi fisicamente non ti aspetti granché da lui Kickert che ha tendenze da giocatore esterno si fa fatica sotto quel tabellone Errol Knight va a prendere il tiro da tre punti sarebbe stato ammazza o taglia gambe per i Semeris che va a sua volta a prendere un altro tiro dalla grande distanza con Marigny che non va questa volta i Giles dovrebbero in questo momento controllare un po' di più il ritmo della gara Derek Revio che rinuncia al tiro da fuori va da sotto un altro secondo tiro un altro canestro di Battista 47 a 40 soffro tantissimo time out deve fermare la partita e vede il sogno che svanisce d'altra parte non possono pensare di vivere sul tiro da tre e concedere sempre i due possessi la bandiera brasiliana ovviamente Noro di Battista quanti stranieri ci sono in campo ce ne sono diversi ce ne sono il brasiliano di qui ma ce n'è anche un altro di là di brasiliano se avremo tempo vi racconteremo la storia del suo reclutamento se entra Da Silva ovviamente su Da Silva c'è almeno un minuto a disposizione andiamo a vedere che cosa vuole fare in transizione Semmere giocando con le tre guardie sfruttare il fatto che non sempre i lunghi rientrino con i tempi giusti però quel tiro da tre deve entrare perché poi Battista è rientrato bene ha preso un rimbalzo a difesa e sappiamo già la fine del thriller ne piglierà uno in attacco decisamente con istinti offensivi o meglio istinti a rimbalzo Battista che come vedete era su quella palla in difesa ma è andato anche su quella palla in attacco anche perché ha visto il ragazzino delle medie va a tirare da sotto c'è una chance di secondo possesso senz'altro e come no questo è stato prima di giocare qua comunque al Junior College negli Stati Uniti dove ha imparato due o tre cose su questo paesino Barton County Community College prima viene dal Pernambuco Brasilo Brigado prima per quella palla dentro direi vi ho sbagliato però ha fattuto farti perdonare giocando la sua palla canestro nella classifica sottovalutati d'America lui secondo me sta nei primi dieci il Clark Kent player of the game che ha si stoffato per sto colpo del Clark Kent avremo modo di parlare anche del Clark Kent player che ogni tanto compare durante gli highlights vi spiegheremo di cosa si tratta e qui ancora Sam Meris che deve assolutamente cercare di riavvicinarsi l'unico modo per farlo potrebbero essere le solite triple o potrebbe essere comunque sempre il controllo della partita che garantirebbe ai Bulldogs di non scappare via nel punteggio si lavora ancora sul perimetro questa volta però la difesa dei Bulldogs ha capito cosa bisogna fare non concedere le penetrazioni da lì nascono gli scarichi sugli scarichi sono veramente letali i tiratori di Sam Meris e questa volta viene fiscato un pallo in difesa a Errol Knights che non è d'accordo e non è mai d'accordo un giocatore di quel tipo su un fischio che gli va contro ha sbagliato un tiro da tre punti in precedenza ma ha fatto 5-6 minuti difensivi come al solito straordinari si possono permettere alcuni dei movimenti difensivi che hanno perché poi lui sta con tutti sui cambi difensivi e sul perimetro hanno difeso bene va a sedersi resta a mio modo di vedere uno dei giocatori insostituibili di questa squadra è rientrato anche Kickers avete visto anche uno dei motivi dello svantaggio di Sam Meris ha fatto 15 punti nei primi 11 minuti e 18 fino adesso e Turiaf muove i piedi fagliela mettere per terra se gliela fai mettere per terra è tutto diverso non è così pericoloso come quando ha due metri sulle ricezioni Turiaf deve muoversi lo sta facendo bene e Turiaf ha preso poco fa un rimbalzo difensivo adesso va a prendere posizione sotto canestro c'è un fallo di posizione perché Turiaf cercava di guadagnare spazio per avvicinarsi a canestro fallo di Ajuanu mi sembra di poter dire senza grande tema di smentite che Gonzaga è una delle squadre con più giochi offensivi che abbiamo visto quest'anno hanno vari set offensivi e tendono a utilizzarli allenata bene come pochi allenata bene come pochi e abbiamo detto in una delle ultime telecronache che è uno dei quattro programmi più vincenti degli ultimi quattro anni in tutta la NCAA per due motivi il primo perché ricrutano veramente bene arrivano sempre giocatori buoni c'è un continuo riciclo come questo e poi anche perché la Speedul così come anche se sono al settimo posto nell'RPI sicuramente non è che giochino delle partite difficilissime no 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 niente da dire stami a sentire hai letto John Lee Anderson 813 pagine la biografia di Che Guevara ultimamente no no Malcolm X no no manifesto del perdito comunista ero impegnato a leggere l'ultimo libro di Bobby Knight bravo ricchezza delle nazioni niente niente invece barra X sempre buona per quello con i cappelli alla Morrison scattante però Derek Ravio sbaglia la tripla che poteva dare il più 10 ai suoi Morrison decide di prenderla subito dopo la sbaglia anche lui giocatore istintivo se ce n'è uno chi se ne frega se dobbiamo controllare il rituo io ho la palla sono libero prendo e tiro si diverte si vede che è in campo divertendosi questa volta c'è un tocco in difesa Agee Roy che stranamente continua a forzare le sue soluzioni offensive la rimessa d'attacco è per St. Meris time out in arrivo a Levis Center giocatore che mi fa impazzire letteralmente per il suo approccio sai se leggi Adam Smith Karl Marx Engels se uno che ha qualche cosa di diverso niente Playstation si pensa che non è una bruttissima idea se poi fai anche 20 con 8 su 14 meglio 45% dal campo per Gonzaga che comunque non sta tirando benissimo 9 su 21 da 3 per St. Meris aveva costruito il vantaggio sul tiro da 3 il tiro da 3 ultimamente non arriva ed ecco che c'è lo svantaggio viene sbagliato ancora un canestro già fatto sotto canestro arriva la stoppata di Turia questa volta c'è il fallo AJ Rowland a rimbalzo offensivo con presenza stranamente per una guardia fallo di Turia faccia adesso non c'è la Paola che di solito impazzisce Bertone Affano una faccia che ti conquista e ha conquistato tutti a Gonzaga lo trovi dappertutto non so lezione di chimica c'è lui anche se non è la sua lezione ci fa lo stesso parla col professore sposta allora come è grazie ragazzi venite domani c'è una festa organizzo io tutto così se c'è una grande boccia con dentro gli M&M diciamo i piccoli confettini ricoperti con dentro il cioccolato e arriva lui dopo un quarto d'ora non ci sono più gli M&M è completamente contagioso ha in mano il campus credo che per lui chiuda un occhio anche il gesuita principale il magnifico rettore ha in mano tutto purtroppo per gli exec è finita nel senso che questo è l'ultimo anno infatti l'abbiamo visto nei recenti highlight alla sua senior night piangere più volte prima della partita durante alla fine il fallo in precedenza l'aveva subito Marigny che ha commesso uno su due dalla linea del tiro libero questo invece è AJ Ronald pronto a entrare questo è il brasiliano Raffelta Silver non è AJ Roland eccolo qua il minuto per il brasiliano su più sette un altro dei colpi di coach Bennett che l'ha reclutato in Brasile e l'ha fatto venire a San Maris che è un campus che definirei Cibettuolo a Moraga sulle colline sovrastanti Oakland dall'altra parte della Baia di San Francesco arrivato il brasiliano era convinto che e no se vado a giocare lì allora devo fare quattro anni di Cayenna proprio non posso più tornare a casa e il coach ha detto no no guarda che almeno d'estate si può tornare in Brasile si può tornare ma allora vengo di sicuro poi gli ha fatto vedere il palazzo dove giocavano vent'anni fa che ormai è vecchio e cadente bellissimo qua eh questo è il palazzo dei miei soli ma guarda che non ci alleniamo neanche c'è quello nuovo ah c'è quello nuovo ah beh bellissimo è piuttosto naife candido reclutato sull'istante e non è neanche un brutto giocatore eccolo con la palla in mano dopo il canestro del più nuovo di Revio Morrison sulla linea di passaggio il brasiliano forse questo palazzo è leggermente diverso da quello che aveva visto alla sua prima visita e vediamo ancora gli Zex che cercano di andare per la prima volta in vantaggio con la doppia cifra in vantaggio scusate Derek Revio gira sul perimetro c'è un fallo sotto canestro e ancora un fallo di contatto con Turias che cerca di prendere possesso per cercare di spingerlo e di portarlo fuori dalla sua zona di ricezione e continuano a commettere fallo i Gales si gioca sempre sul perimetro Bulldogs con la palla in mano P-Mac eccolo Ronituriev lontano da canestro si gira movimento di virata splendido questa volta non vede però neanche il ferro tutto sommato una discreta difesa per i Gales che cercano di correre in contropiede si forza un passaggio in transizione però c'è il tocco con la gamba e si va ancora con la palla in attacco per St. Mary's quelli che già ballano quelli che ufficialmente sono stati invitati a danzare 8 central fori dagli universi dei nomi qui ci attanunga che in tanti pensi veniva sono quelle squadre che fanno parte di quelle conference con meno team diciamo all'interno e quindi i tornei finiscono prima però ci sono alcune storie interessanti anche lì e se vi faremo vedere delle partite di primo turno di torneo avremo modo di raccontare il nostro sogno è sempre farvi vedere Northeastern comunque Northeastern e Vermont sarebbero high on our list ben posizionati sulla nostra lista bella palla dentro di Turiaff questi sono due importanti vantaggi in doppia cifra segna persino Rosso Malpelo Pendergraf su assist di Turiaff che dimostra di saper passare la palla 51-40 ecco qua il vantaggio in doppia cifra e per Ossi ma Ossi veri tornate un attimo indietro idealmente a quella grafica Odu gioca Alex Lawton che è un'ala grande bel 2-4 molto molto interessante decisivo anche nella vittoria di Odu uno dei tanti australiani che fa la differenza c'è Bruce a Baylor che è buono Chris Cameron a Louisiana Lafayette conoscete Martin Iti che gioca per Charlotte a New Hampshire c'è Janev c'è Kickert c'è Knight che era suo compagno in Australia che gioca all'Oyona Marin Mount attenzione a questo loto March bene a Nebraska poi c'è il rosso Censcher ovviamente di Georgia Tech e l'Ossi degli Ossi è ovviamente Bogut al momento seriamente iniziato di prima chiamata assoluta al prossimo draft e seriamente iniziati a un'ottima prossima olimpia degli australiani a questo punto devo dedurre il problema è che solo Bogut ha un po' la cattiveria vera e propria che serve a questi livelli gli altri sono un po' da Australian to be a Boston Australian to be cioè un po' compagnoni Bogut invece ha quella cattiveria che potrebbe fare la differenza gente che chiede scusa dopo il contratto sottocanetto esatto cioè questo è un po' come questo qua belli da vedere però quando c'è la bavetta alla bocca fanno un po' fatica ha bisogno di una reazione avrebbe bisogno dei tiri da tre punti ancora Sameris Kickert come vedete viene marcato in maniera completamente diversa da Morrison che questa volta difende benissimo scusate da Sean Mellon che difende benissimo con i piedi obiettivamente tra tutti quelli che sono usciti dalla panchina Mellon sorprendente forse anche per centimetri il migliore in questo momento a marcare Sicert tutta Gonzaga difende lui sta marcandolo bene anche perché ha il passo giusto per stare con lui le sconfitte in conference che sono due sono una contro i Giles e l'altra al War Memorial di San Francisco contro i Don's luogo sempre complesso per giocare e per motivi misteriosi i Don's si accoppiano benissimo con Gonzaga e li hanno messi veramente dura poca anche al McCartney cioè nel loro palazzo quello dove non perdono praticamente mai e infatti quest'anno non hanno mai perso Kickert a battere due tiri liberi giocatore da 81% in stagione rientra sotto la doppia cifra il svantaggio di Semeris che deve cercare di mettere un po' più di pressione in difesa perché siamo sotto i 10 minuti di gioco dal termine della partita viene concesso spazio a Mario Battista ancora sotto canestro non c'è dubbio è il mio Claire Kent player of the game e va ad appoggiare due punti alla tabella allora scrivo Claire Kent player of the game Battista la chiave tattica che adesso su ogni palla dentro proprio Semeris fa fatica fisica troppi troppo grossi e troppo fisici andiamo a spiegare mentre qui rivediamo Battista perché Claire Kent player abbiamo griffato questo termine perché Claire Kent player è riconosciuto come quel giocatore che non vedi perché non è appariscente però poi quando si tratta di andare a vedere le statistiche è quello che fa alla fine della partita in termini di punti ribalti come in questo caso decisamente ce ne sono tanti di numeri Claire Kent è Superman quando ha gli occhiali per i pochi esattamente il concetto quindi è mentre qui va ancora a cercare un canestro da sotto Marigny che potrebbe cercare di scuotere il concetto è non lo vedi però alla fine cifra da supereroe ancora Derek che va con il palleggio cerca di battere la prima linea difensiva poi giustamente gioca a ritmi più controllati va sul pick and roll di Sean Mellon difende bene comunque sui tiri da tre punti di Derek Mellon questa volta Mellon va ancora dentro per cercare due punti appoggiati alla tabella di solito un giocatore che si prende poche responsabilità offensive l'ha dimostrato anche l'insicurezza di quel tiro Marigny con la tripla dicevamo le triple possono riportare in partita Sammeris meno 6 14 con 3 su 7 dall'arco e le triple soprattutto in situazione di transizione per poterci arrivare a quella situazione di transizione bisogna andare a rimbalzo adesso che Turiazzo è fuori hanno qualche chance in più di poter avere rimbalzo difensivo di correre sulla transizione e prendere quel tiro che è il tiro per far rientrare in partita Revio va a prendersi due tiri liberi perché ha subito il fallo Federico tu dicevi giustamente prima che Revio è un giocatore comunque estremamente ordinato che non si vuole prendere i tiri sarei curioso di vedere questa squadra ci saranno più sicuramente Turiazzo forse Morrison o nel momento in cui dovesse andare via Morrison mi aspetto un altro Dandy Cow non so tu eh sì effettivamente se dovessero perderli tutte e due l'anno prossimo siamo un po' in difficoltà al di là di questo ragazzino che viene dalla Baia molto molto interessante e per qualche motivo Fiu ogni volta che li allena li trasforma io non ho mai visto giocare a Vancouver nello stato di Washington non in Canada Revio però dubito che fosse forte così cioè questo ragazzo che già adesso a questo livello contro questo tipo di avversari fa la differenza non so cosa potrebbe fare contro non so un D. Brown giocatore di quel livello però sinceramente a questo è completamente dominante a proposito di un paragone che hai fatto con il squadro dell'altra conference ricordami che devo farci una domanda che interesserà sicuramente anche i telespettatori prima della fine della partita Derek Revio mentre qui si alza ancora la difesa dei Bulldogs e Derek Revio necessiterà sicuramente di qualche giro in palestra però quest'estate un po' di chiso la tirano su è tornato Roron intanto a centro aria lo vedete mentre qui c'è Ron Knight che va a marcare Agee Golan ancora una volta con un tiro scriteriato per cercare di avvicinare Roron è rientrato a centro aria lo dimostra anche questo rimbalzo difensivo adesso vogliono giocare con il cronometro 7 minuti e 15 ancora più 8 si possono avvicinare in un Amens con i tiri da 3 punti ecco il motivo del controllo della partita di Gonzaga che adesso va sotto canestro da Ronnie Turia non c'è il fallo offensivo prima c'è il fallo difensivo poi e qui hanno anche visto il nome sulla marietta Ronnie Turia gli arbitri assecondiamo il big man francese sicuramente però torniamo anche sull'azione precedente perché obiettivamente dal punto di vista tecnico è molto interessante pick and roll tra Morrison e Raivio cioè tra numero 1 e numero 3 del tuo attacco su cui la difesa si compromette abbastanza e a questo punto la palla poi arriva in posta e raddoppia pressoché impossibile da parte dei giocatori che erano coinvolti in quel pick and roll e ribadisco a questo punto devi soffrire i dorsali del Martinico che sono veramente difficili da gestire a questo livello il Martinico 16 punti a partita 9 rimbalzi col 5 al 1% dal campo e il 70% ai tiri liberi è già nei primi 5 nella storia diciamo di ogni epoca a Gonzaga per rimbalzi e per punti e se dovessero andare avanti nel torneo dei CIA di Zex è comunque destinato a fare ancora meglio Ronnie Turia ancora le prese contro la difesa in controllo dei Bulldogs AJ Roland decisamente sottotono la sua prestazione io mi aspettavo decisamente meglio da Roland ancora Schollberg lontano da canestro vedete Battista gli concede 3-4 metri perché sa che da lì non può essere pericoloso ci gioca il pick and roll vogliono andare spalle a canestro da Kikert non una grande idea perché oltre a essere marcato da Turiaf arriva l'aiuto di Battista vede e scheggia malapena il ferro poi Roland è costretto se ti posso dire andare spalle a canestro con Kikert contro Turiaf e contro il brasiliano non è una gran scelta alla fine della partita ti accorgi della loro superiorità atletica infatti sarà interessante l'anno prossimo se la squadra dovesse ruotare attorno al brasiliano perché il brasiliano dovrebbe pigliare un pochino più di responsabilità offensive e stare in campo di più il brasiliano non mi sembra un grandissimo atleta soprattutto ad alti ritmi deve migliorare dal punto di vista della capacità aerobica però certamente l'anno prossimo la sua squadra in front line sarà sicuramente la sua squadra se sarà ancora cui comunque nel caso di Morrison perché Morrison ha proprio il killer in stick se ne ho visto uno del giocatore che si tida dei suoi mezzi e sa quando usare e finalmente trova due punti Roland sempre alla sua maniera con la penetrazione a sinistra appoggiati con la mano destra pick and roll di cui parlavamo prima di Rebio con Morrison questa volta il pick and roll invece arriva con Battista che è libero centro aria non riesce ad affidargli la palla a Morrison gli riesce ad affidare la palla invece Rebio si gira a Battista c'è un contatto gli arbitri decidono solo per la rimessa dal fondo al tuo discorso di prima vuoi dire che allora Clark Kent si potrebbe trasformare in super nell'anno prossimo sì effettivamente potrebbe trasformarsi in super questo di super ha già decisamente tante cose questo è un altro tiro complicato come notate Gonzaga arriva sempre a tirare dove vuole cioè sostanzialmente qui qui poteva esserci un'infrazione di passi del francese poi come sempre gli arbitri leggono Turiaf e danno canestro più fallo andiamo a rivedere 1-2-3 sì ci poteva stare poi siamo in America i passi insomma li considerano un po' poco però ha un buon uso del perno questo ragazzo gioca perennemente sotto il ferro nelle situazioni di questo tipo però come notate chi entra dentro entra nel cilindro del difensore di forza fisica si spazia e ha le mani per poter giocare il semi gancio destro appoggiato al vetro due di classe tutto sommato e di potenza c'è l'anno prossimo quando arriverà questo greco che si chiama Larry Gargunios perché probabilmente non l'ho detto in precedenza questa squadra probabilmente avrà un'altra configurazione sono in molti che ritengono che Morrison si diverta troppo al college per andarsene però se Danny H fa toc toc io avrei una ventesima da spendere per i Boston Celtics interessa puoi portare a chi libri sai quanto stiamo in trasferte e come sempre interessa fare un giro al piano di sopra semplicemente per i soldi che ci danno interesserebbe sicuramente a Morrison soprattutto perché in questi casi funziona così sono gli scout o comunque i tuoi quelli che saranno i tuoi futuri agenti a dirti guarda che rischi una chiamata al primo giro potrebbero scegliersi i Celtics per un giocatore bianco di quel tipo penso io non so dove si ha qualche sogno ma per lui finire con la maglia i Celtics non sarebbe male soprattutto visto che continuano a paragonarlo con tutto rispetto a Larry Legend c'è quel problema c'è quel problema lì togliamo Legend le mani però sono veramente interessanti Ronnie Turia fa ancora battere due tiri liberi nell'azione precedente se ti posso dire io ho visto il passione di passi sia sulla partenza sia in occasione del movimento per il tiro fatto sta 62-49 con 5 minuti e mezzo da giocare diventa veramente veramente difficile adesso per il Gale sì anche perché questa è una squadra che va in amministrazione controllata ha un trattatore della palla di altissimo livello come Raivio che come avete notato il palleggio lo raccoglie molto poco a giocatori che sono facili da trovare come ricezione in post rimontare Gonzaga è complicato devi alzare tantissimo ritmo della partita fidarti sempre ed esclusivamente del tiro da 3 è difficile e qui andiamo a rivedere cos'hanno fischiato gli arbitri teniamo d'occhio Battista che va a dare uno spintone e probabilmente qui c'è o un fallo tecnico o un fallo antisportivo è un tecnico è un tecnico andiamo a vedere infatti è Kikert che tira i tiri liberi non è il giocatore che aveva subito quel contatto quindi si tratta di un fallo tecnico ai danni di Battista e queste cose vengono punite immediatamente si e qualche conto da regolare probabilmente se non inspiegabile la reazione del brasiliano Clark Kent che è ribellato 62-51 62-51 e meno 8 ancora per Semeris e dovrebbe essere il massimo in carriera tra l'altro questa qua è una delle più belle in assoluto la palla non gli scende quasi mai sotto l'equatore un rilascio veramente degno di una pallagretto professionistica Gonzaga continua ad andare dentro e continua ad avere fischi con i 20 mi sembra di intuire anche perché i lunghi di Semeris fanno fatica d'altronde quando ha la palla Turiaf questo ci può stare come fallo ma ripeto c'è sempre Roni Turiaf sarei stato curioso di vedere quel fischio al contrario se l'avrebbero chiamato forse Kierkegaard non si muove così però l'Australiano è un po' tinero difensivamente per quelle situazioni e Gonzaga è proprio strutturata per andare dentro nel senso che trovano quasi sempre il ricevitore in posizione ideale la stanno cercando anche adesso del brasiliano Errol Knight fuori dalla linea dei tre punti cercano ultimamente gli Zex di andare vicino a canestro pick and roll tra Morrison ancora conti aperti ancora Battista evidentemente ce l'ha proprio con lui eh sì i conti sono chiaramente aperti è la seconda in un minuto sì proprio intenzionale non delle grandi idee dato il momento della partita andiamo a rivedere e probabilmente era anche il giocatore in precedenza Jonathan Sanders sotto canestro a rimbalzo sul tiro libero ad aver subito questo contatto sempre lui va a subire il falso siamo ai limiti di quella che a Capri viene chiamata la capata moca ce gli è andato proprio con la fronte contro la contro la testa anche bruttina questa giocata lo fa sedere assolutamente il coach ha perso il controllo Battista Kickert sbaglia una tripla che poteva riportare a meno 5 Sammeris a rimbalzo hanno lottato per un paio di possessi bene quelli di Sammeris però come al solito la palla finisce nelle mani dei Boldos che i rimbalzi difensivi li controllano come Adam Morrison va a giocare in una situazione di spalle a canestro vediamo che si cerca anche lui questa volta lavora in backdoor fantastico passaggio ma fantastico gioco altro fallo forse regalato ma cosa ha fatto Morrison senza palla e qui è molto interessante mentre avete i cuori in inverno e duete di chi siano partenza 1-4 sviluppo del gioco UCLA che porta poi Morrison a sfruttare il mismatch in basso bellissimo poi il movimento successivo in backdoor ennesimo gioco diverso che questi propongono in un momento chiave della gara se tu vuoi fare lo scouting report della partita e vai a vedere come hanno segnato in relazione ai tipi di giochi che hanno usato hanno una varietà che sfugge alla norma a NCAA e qui andiamo a rivedere il lavoro di Morrison che va a prendersi lo spazio necessario per giocare al backdoor poi quello è un errore difensivo da parte di Jonathan Sanders che gira completamente nel palle a canestro perde la visione di palla e avversario però volevano andare lì per sfruttare il mismatch in basso lui poi va onorato quando fa il movimento verso l'esterno perché è un tiratore come Dio comanda il backdoor è seguito molto bene anche difficile per la difesa ruotare comunque ribadisco era da una partenza 1-4 con una variante su UCLA questi giocano eccolo ancora UCLA a seguire il pick and roll Revio si butta dentro questa volta perde il controllo della palla lo riprende lo riperde si tuffano un po' tutti sul campo Kickert va a recuperare la palla gioca con il palleggio dietro la schiena adesso si va a cercare di apprettare un po' le soluzioni per Sammeris Marigny va a cercare a trovare un canestro molto difficile meno 9 per Sammeris che cerca di recuperare un possesso offensivo è un canestro che onora la memoria di Monsieur de la Rock and Ball da cui il termine è roccambolesco che ha qualche cosa a che fare anche col suo distangue perché noi lo pronunciamo già alla francese ovviamente a San Francisco fanno un pochino sentire di più l'accento inglese come fu l'epoca per Morandé Morandais e adesso ovviamente anche per Marigny ti posso dire nell'azione del replay precedente è giocata da liceale del ragazzino delle medie che in quel caso forse in questo momento uno dei suoi limiti è proprio quello della difesa non sto parlando dei piedi che li muove bene ma sto parlando del comunque mettere un corpo adeguato contro il pari ruolo dall'altra parte che è il doppio di lui e questo che anche se li abbiamo visti poi giocare e vincere contro Oklahoma State potrebbe diventare uno degli argomenti tecnici importanti a The Dance all'NCAA attaccare Raivio con delle guardie che lo mettano sotto fisicamente e devo dire se ne trovano la rimessa è per i Bulldogs non è per St. Mary's nonostante i dubbi sul tocco precedente adesso è Gonzaga a giocare con il cronometro a 3.20 a più 9 diventa veramente dura per i Gales spaziatura e questa volta altra soluzione offensiva in attacco vi parlava Federico di quanti giochi hanno di possibilità quante possibilità offensive hanno i Bulldogs poi questa volta decide di rompere tutto Adam Morrison che è una delle prime se non la prima se non la unica opzione offensiva per Gonzaga sbaglia un tiro prima direi direi sì condivisa con Turia questo è un gioco per isolarlo e lui non ha nessun problema ad andare a prendersi quel tiro qua invece è battuto sul perimetro dove obiettivamente fa abbastanza fatica a muovere i piedi contro i giocatori piccoli e di primo passo leggono questa situazione dalla panchina di Saint Maryse il secondo possesso successivo che si va da Maregnier e attacca per la seconda volta eccolo qua qui però c'era stato un cambio difensivo Adam Morrison non è riuscito a tenere Maregnier che va molto bene ad appoggiare due punti alla tabella sì eseguito estremamente bene meno 7,2,51 li manderanno spesso in lunetta questo è un po' scomodo da mandare da quella distanza a tirare perché adesso sembra che aveva 9 anni ma sempre 91 tira finirà la partita col pannolino te l'avete visto al 91% già 4 su 6 vuol dire che ha già fatto due errori in questa partita difficilmente lo vedremo sbagliare ma sembra capicciato lì per caso guarda che faccia è fortissimo è veramente fortissimo due sbadignando con la pipa in bocca 6,7,5,8 sempre più 9 2,48 sul cronometro e questa volta arriva la difesa zona Kikert va a prendersi un'altra tripla entra ed esce Turri a fare imbalzo offensivo non so come giudici tu la scelta difensiva di Gonzaga di mettere la zona la zona però è un tipo di difesa che avvantaggia il tiro veloce di chi è sotto diciamo di 9 punti deve recuperare letto benissimo da Senneris che ha preso il tiro che voleva da 3 con l'Australiano questo era il tiro del 67-61 tutto questo per non esporre Morrison situazioni sul perimetro che evidentemente non piacciono al suo allenatore però queste sono le metebolezze che scopriamo di Gonzaga che torneranno utili per chi ci dovrà giocare contro e non credo che sia piacevole accoppiarsi con questi specie se questo qua al torneo è quello di stasera e facciamo 7 su 11 nella ripresa non è piacevole giocare sicuramente neanche contro Morrison io posso tentare di leggere la scelta di Mark Few della difesa zona precedente semplicemente cercando di far arrivare a un tiro magari dopo 15-20 25 secondi l'attacco di Senneris che però il tiro in realtà l'ha preso dopo 5 secondi fortunatamente è arrivato l'errore di Kickert non è arrivato l'errore per Morrison 27 4 su 4 dalla lunetta 76% in stagione fate anche 28 punti 70-58 più 12 a 2 minuti dal termine stanno per arrivare alle domande che devo farvi e siccome avveniva da una partita analoga contro i Toreros di San Diego hai l'impressione che questo nelle partite chiave giochi anche meglio della sua media che di solito distanzia i giocatori gli uni dagli altri proprio come carattura psicologica ma è costa domanda tanto senz'altro più adatta la difesa allungata di Gonzaga che fa perdere secondi preziosi all'attacco di Senneris che va vicino a canestro fa fatica contro Turia questa volta trova bene i due punti allora siccome io sono arrivato da poco qua e prima ero sempre dall'altra parte sentendo le telecronache dell'esimio avvocato mi verrebbe da dire cosa mi verrebbe voglia di chiedere al dottor Buffa avvocato visto che abbiamo parlato di certi giocatori sarei curioso e credo anche molti dei nostri telespettatori di sapere cosa ne pensi del futuro e quindi sto parlando NBA o Europa del signor Daniel Kickert con quei centimetri che con quella mano domanda prima mentre qui vanno ancora a canestro di 6 Europa Europa? Europa quindi un giocatore che non vede nell'ottica NBA no tutto sommato no al di là del fatto che tira estremamente bene la sua gestione dei contatti fisici che più si alza a livello e più ti pagano più aumentano mi sembra ancora impraticabile devo dire però che quando vedi gente che tira con quella facilità da 6 metri 7 metri a questo livello hai la netta sensazione che per la meccanica di tiro non sia così problematico spostarla di un ulteriore metro e sai quando cominci a tirare in quel modo da 8 metri con la penuria di tiratori che c'è a livello successivo un'occhiata gliela dai ma ho l'impressione che se tu riatti è in grado di mostrargli i dorsali così tanto immaginati Danny Forzon se lo mette nel tramezzino insieme a Salmone e poi prende tutto quello che trova devo dirti che sono d'accordo ha bisogno sicuramente di lavorare sui piedi perché la sua velocità di piedi migliorandola potrebbe far sì che possa diventare un giocatore sicuramente esterno dopo la tripla di Wahlberg sul meno 9 comunque un minuto dalla fine vado con la seconda domanda allora Gonzaga sempre bene nella West Coast Conference arriva sempre al torneo con i favori del pronostico quantomeno per essere una squadra da Sweet Stil e Elite l'anno scorso addirittura si parlava dei Final Four il futuro di Gonzaga di quest'anno al torneo questa sì che è una bella domanda effettivamente è una squadra che ha qualche limite e lo si nota anche a questo livello molto bene allenata con le guardie giuste per andare fino in fondo ma con qualche problemino in alcuni momenti della gara io direi più difensivo che è offensivo sugli accoppiamenti a un livello fisico superiore quello che incontrerà nel CAA una squadra sorprendente che li possa tirar fuori la incontri prima cosa da notare che testa serie gli diamo sotto la 4 non si va quest'anno nella sua zona del tabellone diciamo che prende una 3 una 3 una 4 dovrebbe passare i primi due turni poi c'è una squadra fisica sul perimetro con gente che li mette in difficoltà contro Raivio e Morrison mettiamo i due giocatori e li obbliga a tenere Errol Knight in campo di più Errol Knight in campo ti dà sicuramente difesa sul perimetro però poi in attacco certe cose della motion non ce le hai lì si gioca il loro futuro 7-3 6-3 60 secondi al termine in questo momento andiamo sotto il minuto di gioco cerca di forzare e di andare a conclusioni veloci Sam Meris e questa volta c'è il fallo di Morrison l'anno scorso Gonzaga se non sbaglio aveva la numero 2 nel tabellone NCA è uscita e la domanda chiaramente nasceva dalla tua considerazione precedente quando hai fatto il paragone di Radio vedendolo giocare con un giocatore alla D-Brown potrebbero esserci dei problemi in regia e proprio perché è una squadra che ha così tante chiamate offensive e dipende così tanto dal giocatore che dirige queste chiamate offensive e possono lasciare i problemi sono perfettamente d'accordo cioè se lo riescono a proteggere e lui sta in campo tanto e questi quando vengono nella tua metà campo eseguono come pochissimi hanno più varietà delle altre squadre se non lo riescono a proteggere i loro lunghi devono ruotare subito per tenere le penetrazioni e metti tu Riat due falli dopo dieci minuti il brasiliano che mi sembra che è dotato a spezzerli i falli altrettanti loro sono costretti a stare a zona tanto e sperare obiettivamente che i ritmi della partita siano i loro su metà campo li piglio con contro tutti e questo qua mi sembra che abbia lasciato l'ultimo biglietto da vista della serata bene ma non benissimo questa azione difensiva di Sammeris che obiettivamente cercava di concedere un tiro affrettato per cercare di andare a recuperare una palla a Gonzaga poi però Morrison ha trovato veramente come Mosè si sono aperte le acce schiacciata in contropiede allora entriamo nella domenica dei Giles la prossima domenica verso le 6 orario di San Francisco impegno oggi ma sì volevo guardare in tv per caso c'erano delle novità io dico in Haiti però sinceramente quest'oggi hanno dimostrato che ho di essere una scuola che può essere anche una sorpresina a livello di primo turno in CAA non so se hanno convinto quelli della domenica obiettivamente spezza il cuore a vederli fuori sicuramente quel settimo posto nell'RPI perché oltre ad avere ogni squadra ha il suo RPI è stata fatta una graduatoria come dicevamo in precedenza dall'RPI la ACC ad esempio è la numero 1 nel senso che la NCAA considera la ACC la conference più difficile quindi il valore dell'RPI per la ACC è 1 la West Coast Conference ha solo 6 conference meglio come difficoltà diciamo e questo potrebbe probabilmente in qualche modo incidere in quella domenica la chiave è che una squadra con 8-8 direi dell'ACC ci va e loro no e non è neanche sempre colpa loro nel senso che l'errore di mettere un'altra danda nell'armur secondo me non lo fanno più però non è neanche colpa loro questa è la loro conference e ci sono squadre di buon livello al di là del fatto che probabilmente ce ne va una sola è dura è dura puoi spiegarla a questi ragazzi che è andato tutto e anche qualcosa di più si cerca ancora coi tiri dalla grande distanza di accorciare il punteggio tra le due squadre non è di va a chiudersi in un angolo questa volta c'è il fallo ci saranno due tiri liberi per lui 23 secondi su corona metto l'attenzione coming up next ad overtime io non è che voglio mettere in difficoltà però tu non ai microfoni hai promesso che la prossima puntata di overtime ci sarà ci saranno le buffa speak nel senso che quando andrai in onda overtime saremo a conoscenza di come è stato disegnato il tabellone in SIA quindi le buffa speak pronostici che tu so non li vuoi fare e io un amico un amico il figlio illegittimo Gino Bramieri ci farai fare lo so bisogna anche esporsi ogni tanto l'unico l'ultimo pronostico che ha azzeccato è Arkansas siamo indietro di una decina d'anni 94 94 esatto e ci avventureremo occhio che all'accoppiamento 5-12 delle zone del tabellone di solito almeno due sorprese ci sono uniformarsi al di là delle stupidagini chiederò su quella zona e Giroland va a prendere due punti nel garbage time e Ronituri ha circondato subisce il pallo il francese va in lunetta ma a questo punto direi che possiamo tranquillamente dire al torneo Gonzaga se avesse avuto bisogno mai di questa vittoria a rischio Sammerry se lo vedete anche dalla faccia dei suoi giocatori interessante veramente difficile mai come quest'anno se ti posso dire per quelli del comitato la Selection Sunday si si scomoda scomodissime anche difficile dare le teste di serie numero 1 alla fine saranno Illinois ovviamente Carolina direi Kentucky che peraltro ha perso una partita come secondo me era abbastanza intuibile da come le avevamo viste nell'ultima gara mostrato su questi teleschermi Wake non lo so Duke metti due teste di serie numero 1 dell'ACC non lo so è difficile anche le teste di serie numero 1 figuratevi il race e della vittoria della sconfitta di Kentucky vi parlava Federico era proprio quella contro Florida che è andata a vincere 53-52 con due tiri liberi di Robertson 5 secondi a 7 decimi c'è ancora il fallo sistematico semplicemente si vuole solo lentamente cercare di far arrivare il più lentamente possibile questa sconfitta si inizia a festeggiare dalla curva dei rossi A la chiamiamo rispetto alla curva dei rossi B due tiri liberi ancora per Turia dura dura questa parte della partita meglio che in quadri di Gonzaga perché quando fa vedere gli altri è durissimo eccolo il protagonista della partita 30 punti Carriera 12 su 21 dal campo con 5 rimbalzi e beh ripeto io ho sempre qualche dubbio sulle sue possibilità future però è un ragazzo intelligente è un ragazzo che sicuramente può lavorare per migliorarsi le sue soluzioni di tiro sono da Basket College non le vedo purtroppo ancora nonostante sia un ragazzo di quasi 2 metri e 5 al piano di sopra può darsi a me sembra che sia molto interessante però è tutto da dimostrare effettivamente il livello superiore come possa essere ho qualche dubbio sul fatto che atleticamente sia degno di una ventesima chiamata al draft su mani personalità non a caso ne fai 30 nella cosiddetta Championship Game lì proprio no eccolo qua sesto titolo nelle ultime 7 stagioni per Gonzaga campione della West Coast Conference nel 2005 quindi va a mettere un altro trofeo in bacchica può festeggiare la curva come abbiamo detto il protagonista della gara Morrison ma anche il nostro Clark Kent player of the game non è andato malissimo e anche Turia direi no e questo per Gonzaga dall'altra parte d'altra parte immenso Kickert che si è spento però un po' troppo anche grazie alla difesa degli Zags che ha decisamente controllato di più le soluzioni buona partita anche di Marigny con 20 punti alla fine per lui anche se tanti sono arrivati sui tiri liberi 80-67 risultato finale Semmè rischiude 25-8 più probabile l'NIT dell'NCAIA la conferma che comunque questa è la seconda miglior conference dell'Ovest è tutto per questo appuntamento col College Basket il prossimo sarà con la finale della ICC un saluto da parte di Alessandro Mamoli Federico Buffa e Clark Kent player of the day JP Battista un saluto un saluto Grazie a tutti.